Trenini, ursetti, mongolfiere, tutti personaggi realizzati a mano in pasta di zucchero o in cioccolato. Qui a Brescia delle torte decorate così non si erano mai viste. Io sono Giada e sono una cake designer. E io sono la sua mamma, Rosy, e mi occupo dei clienti e della comunicazione. Realizziamo torte per ogni tipo di evento, matrimoni, battesimi, compleanni. Amiamo molto il rapporto con i clienti, ma è sul web che abbiamo fatto il salto di qualità. Con Google My Business ho creato il sito che gestisco, scrivo i post tutti i giorni per mostrare ai clienti le ultime creazioni, aggiorno gli orari di apertura e anche di chiusura. In più faccio pubblicità con Google Ads per farci trovare facilmente in rete. Pensa che prima di aprire il profilo non avevo mai lavorato sul web e invece è molto facile. In un mese ho imparato tutto. Ora abbiamo clienti da tutto il nord Italia, ma l'emozione più grande è arrivata da Roma, quando chiederci una torta è stato addirittura il Santo Padre. La cosa che amo di più del mio lavoro è quando consegno una torta e il cliente resta a bocca aperta. Lì vuol dire che abbiamo superato le sue aspettative ed è la cosa che ci gratifica di più. Con Google My Business è stata la stessa cosa, lo stesso effetto. In pochi giorni ho imparato e devo dire la verità siamo rimaste veramente stupite.